Sì, è proprio lì, e poi c'è un'altra variante che ci sono preparati a una certa area, a un livello di studio, che non è opportuno, quindi c'è un traietto, tra le altre, di 12 ore, ma possiamo conoscere che è un'organizzazione, ma quando c'è l'uso di altri skills che è un'organizzazione di PDP, c'è un'organizzazione. Naturalmente il Cuerpo Policial Caribe Olandese, ma è un'organizzazione di Olanda, ma il relazione con l'Olanda è qualcosa di più importante, come mi ricordo, con te vai andando che sai? Corretto, il nostro Cuerpo è un'organizzazione di Olanda, che è un'organizzazione di Olanda, che è un'organizzazione di Olanda, che è un'organizzazione di Olanda, e il relazione è una cosa molto buona, e quindi abbiamo anche un po' di ragione, di nostro budget, di nostra attività, di un nostro lavoro. Per parte di noi abbiamo una buona relazione, ma per parte di Polizia di Ollanda, con i nostri counterparti, abbiamo una buona relazione di lavoro con l'unità in Ollanda, in modo in Rotterdam, in modo in Amsterdam, che costantemente abbiamo intercambi di personale e che abbiamo bisogno di una esperienza per aiutarci a noi. C'è una relazione di lavoro con Polizia di Islanand, ABC, Gusemart, che stanno continuando? Correcto. E' anche qualcosa di un colegio di Corp Chef, il quattro jefe di Islanand, che ci siamo insieme a una plataforma, è qualcosa di che ci siamo compromettati a noi, che ci siamo insieme a un tema di un'altra parte, e ci siamo insieme a un'altra parte. e ci siamo insieme a un'altra parte. Amore per l'isola, amore per il buoneiro, anche quello che è migliore per la nostra comunità.